Il 7 ottobre 1571, nei pressi del Golfo di Corinto, si svolse una delle battaglie navali più celebri della storia umana, la Battaglia di Lepanto. Da un lato l'impero ottomano, dall'altro una coalizione composta dalla Spagna, lo Stato Pontificio, la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Genova, il Ducato di Savoia, i Cavalieri dell'Ordine di Malta, tutti riuniti sotto un nome glorioso, la Lega Santa. Tra le centinaia di migliaia di uomini che presero parte allo scontro, figurava anche un tale di nome Miguel de Cervantes, che tutti conosciamo per il suo El Quijote, ovvero il Don Quixote, come lo chiamiamo noi, autore di notte, sanguinario guerriero di giorno. Un po' come faccio io, soltanto che il mio coinvolgimento nelle battaglie storiche è esclusivamente narrativo. Anche perché sono convinto che se combattessi per davvero in una vera battaglia, morirei nei primi istanti, come le comparsi che si vedono nei film, che crollano subito a terra e tanti saluti. Ma non divaghiamo e cominciamo dall'inizio. Miguel de Cervantes nasce nel 1547 nei pressi di Madrid. Dopo aver intrapreso studi letterari, si ritrova coinvolto in un duello, il cui esito lo costringerà ad abbandonare la Spagna. Ed è proprio con un bel duello a colpi di spada che hanno inizio le avventure di uno degli scrittori più famosi della storia. Un evento, a dir la verità, comune tra i focosi artisti cinquecenteschi, sempre pronti a menare le mani. Gli esempi si sprecano. In Italia abbiamo avuto Benvenuto Cellini, Caravaggio, tutti estimatori di una vita vissuta tra arte e sangue e magia nera. Benvenuto Cellini, in particolare, di cui racconto le gesta soprannaturali in un episodio del mio podcast Storia della Magia, era particolarmente attratto dalla magia nera, la negromanzia cinquecentesca. In ogni caso, Miguel arriva in Italia e dopo un breve soggiorno a Roma si arruola tra le file spagnole, nel terzio di Miguel de Moncada. Il terzio era la tipica formazione militare spagnola, composta da picchieri e soldati equipaggiati con armi da fuoco, ovvero moschetti, archibugi. Il termine divenne celebre soprattutto nel corso delle guerre italiane, per l'efficacia di una simile organizzazione bellica. Stavolta però la chiamata alle armi non riguardava l'ennesima guerra da combattersi nel bel paese. Stavolta il nemico era l'infedele dell'Est, proprio come nelle crociate di quasi cinque secoli prima. Una moltitudine di giovani occidentali di ogni classe e paese si arruolarono per contrastare la minaccia espansionistica islamica, in questo caso incarnata dall'impero ottomano. Soldati di tutta Europa si ritrovarono a comporre le file della Lega Santa. E Miguel de Cervantes era uno di questi, uno dei 4.000 soldati spagnoli imbarcati sulle navi veneziane e genovesi, che componevano l'ala sinistra della flotta, in viaggio verso l'Epanto. La galea sulla quale si trovava l'autore del Quixote era la Marchesa, di Giovanni Andrea Doria. Una nave genovese, spesso riportata in lingua spagnola come la Marchesa, ma italiana in tutto e per tutto, come la maggior parte delle navi che componevano la flotta occidentale. Era un'imbarcazione dallo scafo lungo e sottile, mossa da una sola vela latina che durante le operazioni di guerra veniva mai nata per sfruttare la propulsione dei remi. Gran parte della flotta cristiana era composta da questo tipo di nave, eccetto che per sei vistose eccezioni. Gli arsenali della Serenissima quel giorno decisero di schierare un'arma mai vista prima, che cambiò le sorti dell'intero scontro. Sei galeazze solcarono le acque del Golfo di Lepanto, davanti all'intera flotta della Lega Santa. Navi di dimensioni molto più grandi delle normali galee, con tre alberi invece di uno e una dotazione di cannoni soverchiante. Alcuni storici riportano che, da sole, nel corso del combattimento, queste sei galeazze riuscirono ad affondare più di 70 navi nemiche. La Marchesa di Miguel de Cervantes si trovava nell'alla sinistra dello schieramento e conosciamo la sua esatta posizione grazie al piano d'attacco della flotta, confermato in più punti da alcune cronache. Sappiamo che Miguel de Cervantes aveva la febbre la mattina prima della battaglia e che, nonostante il medico di bordo glielo avesse sconsigliato, volle partecipare lo stesso allo scontro. Gli fu affidata una squadra di dodici archibugieri per far fuoco dal ponte della nave. Non sappiamo le esatte dinamiche dello scontro. Può darsi che Miguel abbia combattuto a distanza e che la sua nave non sia mai stata abbordata. Ma non possiamo escludere che in determinati frangenti Miguel e i suoi dodici archibugieri abbiano dovuto mettere mano alle spade. Quel che sappiamo per certo è che Miguel si beccò due palle d'archibugio in petto e una nella mano sinistra. La battaglia durò circa quattro ore. Quattro ore di inferno per il nostro sanguinario scrittore. In genere non vi erano molti medici a disposizione in battaglia. Secondo l'organizzazione dei Terzios, ad esempio, alcune fonti riportano in media un dottore chirurgo ogni 2200 soldati. Quindi è probabile che Miguel abbia dovuto tenere duro in attesa di un intervento di primo soccorso. Magari sdraiato da qualche parte, sanguinante, febbricitante, mentre intorno a lui tuonavano cannonate e scoppi d'archibugio. Uno scenario apocalittico, descritto nel dettaglio da svariati autori e cronisti, tra i quali voglio citare Gerolamo Diedo per la sua carica emotiva. Terribile era il suono delle trombe, delle nacchere, dei tamburi, ma ancor più forte era il rimbombo degli archibugi, il tuono dell'artiglieria e le grida degli uomini. Folte nuvole di saette e fuochi artificiati volavano per l'aria, la quale per lo gran fumo era quasi divenuta del tutto oscura. Sparsi nello spazio di forse otto miglia di mare, galleggiavano alberi, remi, legni o d'altra cosa spezzata e soprattutto una quantità innumerabile di corpi che coloravano il mare col sangue. Già nelle prime fasi dello scontro, l'ammiraglia del comandante della Lega Santa, la Real, e la rivale dell'ammiraglio ottomano Moezinzade Alipasha si scontrarono per dar vita a un combattimento da ponte a ponte, che durò per tutta la battaglia. Le altre navi si avvicinarono per dare il proprio supporto e i soldati di entrambe le parti passavano da un'imbarcazione all'altra per raggiungere i propri comandanti, dando vita a una mischia corpo a corpo in mezzo al mare, in un caos di navi affiancate. Dopo ingenti quantità di spadate, smazzolate e palle di fuoco, il comandante ottomano Alipasha venne ferito da un colpo d'archibugio, cadde a terra e, secondo alcune fonti, finì decapitato da un soldato spagnolo. La battaglia di Lepanto si avviò alla conclusione. Miguel de Cervantes, al termine dello scontro, si trovava quindi sul ponte di una galea devastata dalle cannonate, sdraiato sulle assi bagnate da sangue mischiato con la spuma del mare, in mezzo a una visione infernale di cadaveri galleggianti e aria soffocante, ricolma di fumo della polvere nera. È probabile che nei giorni successivi venne trasportato a Messina, dove la maggioranza dei soldati finiva sotto i ferri dei chirurghi del gran ospedale, e che ci restò per sette mesi, perdendo l'uso della mano sinistra, ma questo non fermò la sua voglia d'avventura. Con un compenso di ventidue ducati per aver servito la corona spagnola alla battaglia di Lepanto e la sola mano destra a impugnare la spada, Miguel de Cervantes si arruolò nell'esercito, di nuovo. Si imbarcò sulla galea Sol e, nel mentre si trovava a navigare presso Palamos, sulla costa brava, si scontrò con dei pirati algerini che abbordarono la nave e lo catturarono. Restò in prigionia per cinque anni, nel corso dei quali maturò, probabilmente, la sua vena poetica. Dopo la sua liberazione, infatti, cominciò a dedicarsi alla scrittura, finché non giunse in tarda età a pubblicare l'opera che ancora oggi viene studiata e letta in tutto l'Occidente. Sappiamo poco della vita avventurosa dell'autore del Quixote, ma forse è proprio nella sua opera che possiamo ritrovare sprazzi di quelle imprese per terra e per mare, con l'archibugio carico di polvere nera e le vele gonfiate dal vento. La vita avventurosa di Miguel de Cervantes è una miniera d'oro per un appassionato di storie come me. Il minimo che possa fare per commemorare le sue imprese è di raccontarle assieme alle peripezie dei vari personaggi storici e letterari di cui mi imbatto durante le mie ricerche per scrivere romanzi. Se questa storia ti ha appassionato, mi raccomando, seguimi, così non perderai l'occasione di vivere le prossime leggende affilate. Ciao. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara.